La pace sia con voi e con il suo spirito. A celebrare in questa santità la passione del tuo figlio per gustare la dolcezza del tuo perdono per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e legna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Ascoltatevi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore, dal seno materno, poca Signore, racconterà la tua salvezza. La mia volta, Signore, racconterà la tua salvezza. Cristo, re di eterna gloria, rodea a te, o Cristo, re di eterna gloria. Simon Pietro gli fece il treno di informarsi chi fosse quello di cui parlavano. Ed egli chinandosi sul petto di Gesù gli disse... Un saluto per condiare a tutti voi, i complimenti anche per l'iniziativa e mi permettere di dire anche per... Oh, questa non è una promessa, questa è una certezza, è una evidenza, perché quello è risolto veramente, si è fatto toccare, si è fatto vedere, e non solo. Ma chi lo ha seguito, chi lo ha seguito, chi lo ha seguito, abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ecco, noi preghiamo perché questo possa accadere a ognuno di noi, personalmente. Adesso stiamo seduti e voi state cercando di offertare. O non c'è la preia di Fede. O non c'è la preia di Fede. L'avete preparato loro, l'avete preparato. Per la Chiesa sparsa nel mondo, perché lo Spirito Santo la guida la verità tutta intera, e sia sempre sacramento di salvezza per quanti cercano Gesù. Via, verità. Offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammetti di aggodere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Dona c'è la preia di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono meglio di partecipare alla tua menza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Padre misericordioso, questo pane eucaristico che ci fa tuoi commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con te nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amo. Signore sia con voi e con il nostro Spirito. Vi benedica Dio all'Impotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. La Mestra è finita, andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. Tu hai vinto per noi. Grazie a Dio.